Io ho ovviamente una cosa da un po' No Da un po' eh Io so già Io so già Ma siamo sicuri di farlo? Io la settimana prossima diventerò papà Io lo sono già Mio figlio non potrà dire Ma papà ma tu hai fatto quelle cazzate lì Ma per che cosa? Ti basta guardare in faccia Però vorrei dire una cosa, seria Ma può diventare padre una persona con questa faccia? No Può diventare padre? No No veramente, io farei qualcosa Vieni a casa con il pizzetto Vieni a parlare con tu Con mia sorella Meno Io volevo fare una Ma capelli lunghi Lascia già i capelli lunghi Ma stiamo improvvisando Attenzione eh Mi andavo a mitare Che um bebe Oh Meno Ma 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 Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.